Ciao a tutti ragazzi, con un nuovo video, come avevo già detto, avevo chiesto insomma nel video, quello dove dicevo appunto che partivo, avevo chiesto appunto se volete vedere anche magari le mie valigie, alcune ragazze appunto erano interessate, però siccome appunto mi pare noioso farvi vedere appunto i vestiti che mi porto perché sono vestiti normali, ho deciso di farvi vedere il mio beauty da viaggio, che come avete visto dal titolo è il più misero penso della storia, perché porterò davvero tantissime cose, pochissime cose, e la metà sicuramente non le utilizzerò, allora questo qui appunto è il mio beauty case, questi con i baci, molto carino nero in raso sembra, è appunto questo qui, qui c'è tante le scompartimenti, e qui c'è anche lo specchietto, si è un po' sformato, non capisco come mai, è sempre stato così quando l'ho comprato, comunque appunto è questo qui, non è piccolissimo appunto c'entra quasi tutto quello che porto, Allora partiamo subito da questa parte qui appunto, io ho portato la matita nera per gli occhi, e così è quella di Lavon Super Shock, appunto nera ed è super morbidissima, perché io la utilizzo per applicarla all'interno dell'occhio, nella rima inferiore, e portando questa ho deciso che forse porterò sia un ombretto nero, questo qui, e ovviamente anche il pennellino per fissarla, però non sono sicura se porterò queste due cose, però non so se porterò queste due cose, perché penso che porterò soltanto la matita, perché comunque non la tengo dalla mattina alla sera, quindi c'è bisogno di essere fissata, insomma magari soltanto per una serata, quindi, ora ancora devo decidere se portare tutte e tre, o soltanto la matita, questo qui che invece è sempre del Lavon, è la matita per le sopracciglia, questo qui è quella marroncina, io non utilizzo la matita appunto, perché non ho bisogno di infoltire le mie sopracciglia, perché sono già folte, ma io lo tengo soltanto per il pettino qui, in fondo, per lo scoglio appunto per pettinarle, poi porto questi due luci da labbra, di Essence, entrambi, questo qui è quello lì, Stay Matte, mi piace, non mi piace questo qui, mi piace perché è appunto un colore molto bello, mi piace da vedere così, solo che è molto molto simile alle mie labbra, praticamente non si vede per niente, però magari per, giusto per non dare un tocco di colore sulle labbra, molto leggero, lo porto, e questo qui è il numero 01 Velvet Rose, e poi questo qui che è un luci da labbra proprio, è quello della linea di Twilight Breaking Down, mi piace tantissimo, è rosso, appunto rosato, perché sulle labbra è trasparente, però ha tantissimi, tantissimi glitterini all'interno, mi piace davvero molto, questo qui si chiama 02 Renesmer Red, poi porto questa matita qui, che è per le labbra rossa appunto, perché porto anche ovviamente il rossetto rosso, questo qui sempre di Avon, della Color Trend, questo qui si chiama Puppy Love, e invece la matita è della Maybelline, è la 0, no, è la 46 Red, questa qui, poi porterò due maschera colorati e uno normale nero, quello che mi ha preferito, quello dell'Avon, che appunto è Super Curl, Curlicious, Super Curlicious, e appunto c'è lo scovolino a banana, mi piace davvero tanto, è il mio preferito appunto, questo qui è nero, e poi ero un deciso di portare questi due, sicuramente li utilizzerò neanche una volta, o forse una volta, però appunto li volevo portare, e questo qui è dell'Avon e quello della Color Trend è uscito ultimamente, io ho preso il turchese, che però è celeste, e il verde, e ovviamente non porterò il verde perché tanto non lo utilizzerò, e porto appunto il turchese, che si chiama Turquoise Tango, che però appunto sulle ciglia è celeste, di questo qui vi ho fatto la recensione qui sul canale, vi lascio il link qui, e poi invece questo qui di Kiko, che ho preso un po' di tempo fa, e è blu, so che sono molto simili sia il turchese che il blu, però appunto li porto entrambi, questo qui è lo 02, però il correttore, questo qui è sempre di Avon, appunto il correttore stick, e questo qui è Fairy, mi sembra, sì Fairy, è appunto il più chiaro, non lo utilizzerò sicuramente perché non ho grandi problemi di imperfezione, infatti non mi porto neanche il tinta, però appunto questo qui non si sa mai lo porto, poi porto la cipria, nel caso appunto che utilizzo il correttore, di bloccarlo, appunto ce l'ho, poi porto questo qui, che è un liner in liquido della Collistar, erano decisi di portare questo, quello in gel che ho della Maybelline se non sbaglio, però appunto portare il pennellino, poi il coso, riesco a portare questo qui, che appunto è anche più semplice da utilizzare, e questo è semplicemente nero, poi altri due rossetti che forse sono poco adatti alla stagione estiva, sono appunto questo qui, che è questo bellissimo colore viola, che voi non so come vedete, mi piace tantissimo, proprio un colore orchidea diciamo, questo qui era in una palette, in una trousse diciamo, che mi regalarono un po' di tempo fa, quindi non so dirvi la marca, questo qui, e poi questo qui che è dell'Avon, e questo è invernalissimo, però mi piace troppo, è appunto dell'Avon, e questo colore qui, dalla videocamera forse avete più marrone, però dal vivo è molto, è praticamente quasi nero, violaceo, però sulle labbra risulta ciliegia, un ciliegia scuro, e anche un odore buonissimo, mi piace da morire, proprio di ciliegia, e questo qui si chiama, ehm, Temptless, poi invece, per quanto riguarda il trucco, è tutto quanto, poi ovviamente aggiungerò, qualche cotton fioc, per, per, correggere, eventuali errori, poi l'attività di argente, lo porta mia madre, mh, e quindi appunto, tutto quanto, poi ovviamente per i capelli, la spazzola, che però appunto qui dentro non mi entra, quindi la porta da mia madre, poi, ovviamente lo spazzolino, quelle cose lì, poi invece per i capelli, mi porterò, questo, mh, bustina che appunto io tengo nel cassetto mio, è quella che appunto utilizzo tutti i giorni, e qui dentro ho un sacco di cosine, mollettine, mh, allora presenti vi faccio vedere mollette, varie misure di mollette, poi forcine, elastici, altra mollettina, forcine, poi ho questi fiocchettini qui, che mi piacciono tantissimo, ancora da apparecchio che non uso, sono appunto tutti questi, io e nero e appua rosa, questo è bianco e nero, con tanti disegni della pace, fiori, colombe, eccetera, così invece appua rosa e nero, poi altre mollettine piccole, poi qui dentro c'è rimasto forcine, e poi orecchini, appunto di ricambio, che se mi cade, mi perdo uno, mio appunto, non mi faccio chiudere il buco, insomma, ce l'ho sempre uno di riserve, poi invece, per quanto riguarda gli smalti, l'anno scorso portai, la base, trasparente, poi portai, questo smalto qui, no, questo smalto qui, che è appunto un bordeaux, e poi questo qui, che era quello appena uscito dell'Avon, con l'effetto opale, e poi il pennellino d'Otter dell'Avon, quest'anno invece, ho fatto, come vedete, la ricostruzione ieri, il refill, e ho applicato il gel, infatti questi sono appunto colori in gel, quindi non ci sarà bisogno che io applicherò lo smalto, di questi gel qui, vi farò vedere presto, il video appunto dell'applicazione, perché sono dei prodotti nuovi, quindi, per quanto riguarda gli smalti, non so appunto che porterò, penso più niente, o forse qualche smalto per mettermelo ai piedi, poi invece l'acetone, il solvente per unghie, lo comprerò giù, perché ho sempre paura che appunto si rovesci, forse decido che porterò appunto questi due smalti, un rosso, per mia madre, e così che appunto ho un lilla, un viola lilla, e forse magari qualche strass da applicare sopra, o questo qui che mi piace tanto, insomma, ancora devo decidere se li porterò e quali, e questo appunto è tutto il mio misero beauty da avviare, spero tanto che questo video vi sia stato utile, e che magari vi abbia fatto compagnia, un grosso bacio, alla prossima, ciao!